...delle gabe di partenza, sbagli ordini dello spazio, sbagliati alla quarta forza. Sesebi in vantaggio su oro di Irlanda, all'esterno del quale progrediscono velocemente Queen Califa in giubba gialla con le stelline e all'esterno di questi Baby Kurt in giubba gialla e verde, quindi Sesebi, Queen Califa e Baby Kurt. Oro di Irlanda che si adegua in quarta posizione lungo l'arco della prima curva, in quinta posizione avanza Fleur de Nuit che lascia nelle posizioni di retroguardia gli altri che sono nell'ordine Weimaraner, Fali Solizza che ha ridosso anche, non s'aspetto, che vale a passaggio davanti alle tribune. In vantaggio, a un giro della conclusione, Sesebi su Queen Califa in terza posizione rimane Baby Kurt, avvicinato da oro di Irlanda, Fleur de Nuit che viene apparigliata all'interno da Weimaraner, quindi non s'aspetto, Oli Solizza alla retroguardia. I cavalli hanno percorso anche la seconda e penultima curva, tornano sull'ultima curva di fronte con Queen Califa che attacca Sesebi dietro due Baby Kurt, avvicinato e superato da oro di Irlanda che si profila in terza posizione, quindi non s'aspetto, prova ad avanzare all'interno, all'esterno nuove Fleur de Nuit, Alice Solizza che lascia la retroguardia. Cavalli all'imbocco della piegata conclusiva con oro di Irlanda che inconde su Queen Califa che si è liberata del calante Sesebi. In terza posizione non s'aspetto, che ha all'esterno Fleur de Nuit. Passa sulla piegata conclusiva oro di Irlanda, in seconda posizione Queen Califa, rimontata da Fleur de Nuit, poi non s'aspetto gli altri. Direttore d'arriva affrontata dal leader da oro di Irlanda, in seguito da Fleur de Nuit, favorita e contro favorita che vanno a lottare la corsa nel tratto conclusivo all'ira oro di Irlanda, all'esterno lo scatto di Fleur de Nuit, la lotta tra i due su pre-trauti in suo traguardo con Fleur de Nuit che ha il colpo di Rami vincente. Terza poi rimane Queen Califa, davanti al nostro aspetto, Boe Maraner, Poli Soligia, Sesebi e Babicor. Sembrava fatta per oro di Irlanda e Nicola Pinna, ma all'esterno il guizzo vincente di Fleur de Nuit e Luca Manezzi, che vincono primo numero due Fleur de Nuit davanti al numero uno.